Albano e il retroscena incredibile durante il periodo difficile, l'ho dovuta segregare Albano, ha parlato di sua figlia, Jasmine Carrisi e del tempo che ha dovuto trascorrere rinchiusa dentro casa a causa del covid-19 Per lui è stato un periodo davvero molto difficile, da dimenticare, scopriamo come ha affrontato la situazione La figlia di Albano positiva al covid La figlia di Albano e di Loredana Leciso, aveva raccontato di essere risultata positiva al covid-19 ai suoi amici e follower, tramite il suo seguitissimo profilo Instagram Anche suo papà ne aveva parlato con ADN Kronos, raccontando che la ragazza aveva fatto una sola dose quando è stata contagiata e che ha avuto la febbre a 38 Fortunatamente né lui e né la Leciso hanno contratto il terribile virus, ma è stato comunque un periodo molto difficile per la loro famiglia Jasmine, come tutte le ragazze della sua età, non voleva rimanere chiusa nella sua stanza, ma Albano ha escogitato un piano, scopriamo come ha affrontato quel momento così delicato Albano, il retroscene clamoroso Durante un'intervista a DiPiUTV, Albano, dichiarò che era molto spaventato della situazione che stava vivendo L'ho dovuta segregare in casa E, in camera sua tutto il giorno e anche io e Loredana Leciso siamo in isolamento, seppur negativi Ma come ha fatto a frenare la voglia di uscire di Jasmine? Il cantante ha ideato un piano per far stare tranquilla sua figlia Albano ha raccontato che le ha fatto diverse videochiamate, le ha cucinato le sue pietanze preferite, lasciandole rigorosamente fuori dalla porta della sua stanza Una tattica infallibile, che infatti ha funzionato con Jasmine Carrisi Lei è molto affezionata ai genitori e sentire la loro vicinanza in un momento così difficile, è stato fondamentale La figlia di Loredana Leciso e Albano, infatti, vuole intraprendere la stessa strada di suo padre, anche se il cantante non è molto contento di ciò La figlia di Loredana Leciso e Albano